buonasera a tutti e benvenuti a questo webinar dovreste sentire la mia voce vedere anche lo schermo come sempre sempre gradito un feedback in chat allora io direi di iniziare come sempre prendete nota del disclaimer e dell'avvertenza sul rischio in quanto i cfd sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva il 61 per cento dei conti dei clienti al dettaglio di tic mil euro per le td perde denaro facendo training con i cfd valuta se comprendi come funziona i cfd se puoi sostenere elevato rischio di perdere denaro allora questa sera parleremo di spread trading è un gradito ritorno di fabio di trend academy che saluto ciao fabio giuseppe buonasera buonasera a tutti questo se non sbaglio fabio dovrebbe essere il nostro quarto webinar insieme dove abbiamo parlato già di spread trading nei webinar precedenti che ricordo trovate sempre sul canale youtube di tic mil c'è una playlist dedicata all'italia e troverete tutti i webinar fatti in casa tic mil però prima di entrare nel vivo come sempre sapete che c'è la presentazione del broker che rappresento questo caso investe di tic mille euro quindi sotto regolamentazione si è registrato presso la consob con fondi segregati separati dalla società assicurati fino a 20 mila euro tic mille è un broker non di inglese che significa che al 100 per cento delle posizioni vengono inviate liquid provider la velocità di esecuzione ultra rapida con una media di 0,2 secondi grazie a oltre 10 server sparsi per il luogo gli spread partono da zero con commissioni tra le più basse del mercato non ci sono commissioni sugli indici sono disponibili i micro lotti sia sugli indici americani che sul dax poi con tic mille non avrete mai un record e potete utilizzare tutte le strategie che ritenete più opportune come scalping arbitraggio eccetera non ci sono costi né sui depositi né tanto meno sui prelievi questo è uno screen che ho preso direttamente dal sito della consob con il numero di iscrizione di tic mille il numero 43 10 come impresa in investimento senza succursale tic mille sui conti forex cfd ha tre tipologie di account il conto pro il conto vip che sono i conti con zero spread a partire da zero da spread zero a cui poi vanno aggiunte delle piccole commissioni poi c'è anche il conto classico che non ha commissioni ma gli spread partono da 1.6 inoltre abbiamo lanciato mercati regolamentati quindi parliamo di futures e opzioni attraverso sia la nostra piattaforma proprietaria c2g qui trovate un po tutte le caratteristiche che sono come il deposito minimo e i tipi di ordini che potete lanciare dalla c2c c2g e anche le diciamo le commissioni che vengono applicate per chi invece ha già delle piattaforme dove paga magari una membership annuale come ad esempio può essere multi chart o la stessa training user la chart e ha bisogno solo del data feed quindi di connettersi ai mercati regolamentati pagando un appunto il feed c'è la possibilità di farlo attraverso le connessioni epi quindi potremo poi andare a connettere e quindi dare le commissioni che ticmill applica su queste piattaforme è molto interessante anche perché i sui costi sono molto contenuti ritornando sull'offerta invece di cfd questa è una solita tabella che mostro in ogni mio web è appresa da my facebook un sito esterno dove vado a confrontare quella che è l'offerta spread e commissioni ticmill rispetto ad altri broker noterete come per la maggior parte del tempo ticmill abbia gli spread e le commissioni più basse rispetto agli altri broker questa qui fanno riferimento solo gli spread e le con incluse quindi le commissioni del conto pro quindi col conto vip dovete mettere in conto che si dimezzano praticamente questi costi proprio perché la commissione che si paga sul conto vip è la metà del conto pro e qui riassumo un po quella che appunto il costo commissionale prendendo come riferimento euro dollaro quindi sull'otto di commissione andrete a pagare 4 euro in apertura e chiusura mentre sul conto vip addirittura 2 euro questo rispetto un po la media degli altri broker che ho visto più o meno applicano 6 euro in apertura e chiusura vi fa risparmiare circa un 30 per cento rispetto appunto altri broker con il conto pro e oltre il 60 per cento con il conto vip allora io ho terminato la mia presentazione e quindi interrompo la condivisione fabio puoi prendere tu lo schermo se vuoi ok lascio la parola nel caso dovessero esserci delle domande pertinenti o magari ti interrompo e poi appunto ti faccio la domanda in modo tale da poter anche interagire perfetto grazie mille grazie giuseppe grazie a tic mil benvenuti a tutti i partecipanti è sempre bello sapere che c'è ancora gente che ha voglia di apprendere qualcosa di nuovo e investire del tempo per la formazione perché fare formazione oggi è più che mai fondamentale faccio una veloce presentazione per chi ancora non ci conosce sono fabio sella sono un trader indipendente e programmatore facciamo sia mql4 che mql5 e faccio parte del team pip trend ormai dal 2017 vi lascio come riferimenti il nostro sito che adesso vi faccio vedere e la nostra mail info chioccio la pip trend academy.com abbiamo anche tutti i social ma preferisco lasciare il sito perché ve lo faccio vedere anche in tempo reale eccolo qui in alto qui a destra trovate tutti i link dei nostri social trovate il link youtube che come diceva giuseppe tutte le sessioni registrate vengono poi messe sul canale youtube quindi trovate il link su youtube delle sessioni registrate ma anche di quelle vecchie quindi potete vedere anche se vi siete persi le fondamenta dello spredo comunque diciamo abbiamo fatto anche webinar un po più teorici piuttosto che pratici quindi c'è tutta la storia ormai da due anni a questa parte la trovate tutte nel link di youtube e una novità che abbiamo anche implementato quest'anno la trovate qui sotto eccola qua al friday open webinar abbiamo deciso di fare due canali telegram uno open dove tutti possono vedere quello che postiamo e quindi facciamo vedere un po di esempi facciamo condivisioni di varie cose se non voglio entrare troppo nei dettagli un canale privato che è è dedicato ai nostri clienti che nei quali anche i clienti possono scrivere quindi è fondamentale perché c'è proprio un'interazione tra noi e clienti è un canale di assistenza dove appunto noi diamo assistenza in tempo reale tramite telegram e quindi un'assistenza molto veloce ma gli stessi clienti possono interagire tra di loro e di conseguenza c'è proprio uno scambio di idee infatti spesse volte confrontandosi escono cose cose nuove e questo friday open webinar lo facciamo tutti venerdì alle 18 e 30 dove diamo la possibilità a tutti anche a chi non è cliente di partecipare con i clienti quindi interagire e confrontarsi con i nostri clienti quindi una novità che abbiamo introdotto da poco ma molto molto interessante e quindi dal sito poi trovate tutti i riferimenti quindi www.piptrendacademy.com cosa facciamo programmazione a 360 gradi mt4 mt5 in particolare abbiamo iniziato a sviluppare lo spread trading per vari motivi vi posso raccontare degli aneddoti per i quali abbiamo iniziato a fare spread trading diciamo che la base non è una modalità operativa che abbiamo inventato noi ma è una modalità che ormai si sfrutta da anni abbiamo fatto degli studi su questa modalità abbiamo deciso di creare un nostro modo di fare trading e creare degli indicatori che ci permettessero di mettere relazione in questo caso più valute quindi per quello si chiama spread trading perché mettiamo in relazione più valute studiamo le correlazioni e i legami che ci sono tra queste valute e otteniamo dei risultati vi faccio anche vedere quello che è stato la nostra performance dell'ultimo mese abbiamo ottenuto questo è il mese in realtà non è l'ultimo è quello di agosto però abbiamo avuto delle performance importanti nonostante il mercato di agosto fosse in generale quello un po' più tranquillo però facendo spread riusciamo ad avere diversi vantaggi sfruttare le volatilità di mercato i trend e riusciamo a tenere sotto controllo il drawdown cosa fondamentale una delle principali cose che a me piace personalmente dello spread è proprio quella di andare a operare non dico ad occhi chiusi ma senza fare analisi sul mercato perché questo perché l'operatività di spread significa proprio andare a operare sia in buy che in sell e questo ti ci aiuta perché ci permette di fare l'operatività di questo tipo quindi andiamo a comprare vendere contemporaneamente al mercato proprio nello stesso istante e nello stesso modo andiamo a vendere o chiudere le operazioni contemporaneamente quindi consideriamo le operazioni fatte come se fossero un gruppo di operazioni come se fosse una operazione unica e questo è fondamentale per rendere produttivo lo spread trading quindi in totale cosa facciamo andiamo a studiare dei sottostanti possiamo anche farlo vedere con una piattaforma apriamo due esempi la griglia rendiamo un po più piccola e facciamo vedere euro dollaro così facciamo a partire anche le slide possiamo usare le slide è già fatta questa è una slide vecchissima però rende molto bene l'idea questo è un esempio di spread trading sono due grafici daily euro dollaro contro gbp dollaro si vede chiaramente come le due valute sono correlate quindi hanno un andamento generale molto simile quindi più o meno nello stesso periodo l'euro scende il gbp scende poi sale gbp sale e questi movimenti sono fondamentali per poter operare perché sono fondamentali per poter operare perché noi facciamo sia buy che sell quindi in maniera indipendente possiamo fare buy da una parte o sell dall'altra se facciamo ad esempio buy da una parte e sell dall'altra nel momento in cui la prima operazione scende va a perdere quindi il buy andrà a perdere però prendo nello stesso momento l'operatività sell l'operatività sell andrà a guadagnare quindi avremo un guadagno da una parte una perdita dall'altra questo ci evita di fare quando siamo in questo punto analisi perché noi qui la classica cosa si vede il grafico nel passato ma la classica domanda che ci facciamo appena apriamo un grafico e cosa faccio adesso sono qui faccio buy faccio sell c'era un laterale c'era un trend su tutte domande che non ci interessano noi qui apriamo un'operazione e qui apriamo l'altra operazione di segno opposto se facciamo buy da una parte facciamo sell dall'altra al contrario se facciamo sell da una parte facciamo buy dall'altra ovviamente non è così semplice ma si vede anche dell'esempio che ho fatto in questo in questo grafico prendiamo l'operazione iniziale quindi buy abbiamo una discesa dell'euro dollaro che ci porta una perdita di 320 punti però dall'altra parte abbiamo un sell che la discesa ci porta un profitto di 360 punti quindi cosa succede che abbiamo un meno 320 da questa parte un più 360 da questa parte lo spread che noi siamo andati a fare ci porta un differenziale 360 meno 320 da più 40 quindi abbiamo un profitto di 40 punti questo è il problema dello spread trading nel senso che andiamo a guadagnare solo 40 punti ma è anche il vantaggio dello spread trading perché è un vantaggio perché se noi avessimo fatto l'operatività opposta quindi avremmo venduto l'euro dollaro e comprato il gbp avremmo incassato più 320 punti ma avremmo perso meno 360 punti questo è il grosso vantaggio perché 360 meno 320 fa meno 40 questo cosa vuol dire che io su un ordine di questo tipo buy su una discesa di un gbp di 360 punti utilizzando la tecnica dello spread trading riesco a perdere solo 40 punti quindi una gestione molto molto importante del della mia del mio drawdown aprendo operazioni come ho fatto vedere adesso casuali quindi in un punto qualsiasi aperto e senza saperne leggere e scrivere aspettando un movimento di 360 punti lo spread mi permette di perdere solo 40 punti chiaramente l'obiettivo finale non è poi quello di perdere è quello di guadagnare però su un'operatività completamente errata io riesco a fare un una piccola perdita e questo nel training è molto molto importante ci sono domande giuseppe o vado tranquillo no su questi aspetti no perché poi tra l'altro li avevamo magari anche visti nei precedenti webinar quindi chi ha seguito quelli credo che abbia chiaro in mente qual è la lo scopo dello spread però è fatto bene ovviamente rimarcare quelle che sono diciamo le funzionalità le funzionalità le potenzialità di questo tipo di tecnica esatto e la parte fondamentale è la teoria e la base sulla quale si basa scusate il gioco di parole tutto lo spread quindi è giusto ricordarle brevemente questa è la versione che abbiamo visto all'inizio ormai due anni fa quindi il classico spread tra euro dollar gbp facciamo vedere questo un grafico in tempo reale quindi in h1 si potrebbe fare anche in h4 però si vede già come oggi lo spread dava un buy buy cosa essendo euro sd dava un buy di euro dollaro e un sell di gbp che ha seguito il mercato oggi sa che il l'euro è sceso poco ma il gbp è sceso molto di più infatti lo spread vedete che si è mosso ed è andato dalla parte opposta quindi ci diceva chiaramente vendi gbp e questo era uno spread che andava a profitto adesso sta dando segnale opposto quindi siamo nella banda opposta chiaramente adesso la parte di diciamo operatività ci interessa poco però nel momento in cui il prezzo rientrerà nella banda ci sarà l'operazione opposta quindi bisognerà vendere euro dollaro e comprare gbp però vedete come una fase importante che è stata quella di oggi del mercato dove c'erano notizie gbp lo spread aveva anticipato già noi stamattina in realtà ieri sera con questa mattina presto eravamo nella parte bassa e quindi già c'era il sentore di fare questa operazione sell di gbp che poi si è presentata molto bene oggi nel mercato questo è il vecchio spread a due è fondamentale andare a posizionarsi il mercato con le giuste leg quindi i pesi del mercato devono essere identici questo è un esempio in valuta ma ne approfitto per segnalare che le novità che ci saranno prossimamente saranno proprio quelle di spostarci a questa operatività che ormai sono circa due anni che la portiamo avanti adesso vi farò vedere anche la versione 2 la versione 3 dello spread che abbiamo nel frattempo sviluppato ma ci sposteremo dal mercato forex e andremo ad un mercato un po più importante quindi faremo spread con azioni e indici quindi quello che l'operatività fatta oggi sulle singole valute andrà a spostarsi sul mercato un po più importante e lì sarà fondamentale avere dei pesi a mercato corretti perché ad esempio potremmo fare spread tra vti e brand spread tra gold e silver ad esempio la proporzione tra gold e silver è circa 1 a 4 quindi tradare un lotto di gold significa tradare 4 lotti di silver quindi il calcolo poi lo farà l'indicatore in automatico quindi non dovremo neanche sforzarci di andare a capire quali sono le proporzioni inserendo i parametri all'interno dell'indicatore l'indicatore andrà a elaborare quello che è la volatilità del mercato quello che è lo storico del mercato perché l'indicatore elabora tutta la storia nel tempo ci andrà a dire cosa fare quindi se fare buy o sell su quale statisticamente è meglio fare buy e quale meglio fare sell e in più ci dirà quali pesi dobbiamo adottare per andare in maniera corretta al mercato questo perché perché nell'esempio di prima abbiamo fatto l'operatività buy e sell casuale lo spread ha la funzione in più di andare ad analizzare e dirci statisticamente quale potrebbe andare meglio a profitto questo ci permette di usare lo spread trading portando una profittabilità di circa sette volte su dieci i nostri profitti a casa quindi su dieci operazioni sette saranno buone e tre saranno in loss anche questo è fondamentale da dire perché purtroppo lo spread trading non è diciamo esente da errori ma riuscendo a contenere il drawdown e riuscendo a gestire in maniera profittevole le altre sette operazioni riusciamo ad avere poi nel lungo periodo la curva che abbiamo visto prima passiamo quindi velocemente alla nuova versione spread anzi le due nuove versioni spread graficamente sono molto simili vedete che questa è la curva che si presenta oggi del nostro spread quindi ha la stessa funzionalità lo stesso studio ha una linea alta che ci indica la zona di sell quindi queste sono zone di sell una linea bassa che ci dà la zona by in questo caso questo spread rispetto a quello vecchio che abbiamo visto prima è elaborato da cinque valute anche qui già l'indicatore quella la versione che commercializziamo oggi è già utilizzabile con valute indici o azioni però diciamo che va perfezionato perché ci sono delle accortezze perché sono mercati comunque differenti e quindi ci sono delle modifiche da fare però è già predisposto quindi per quello lo commercializziamo tra poco nella versione che abbiamo adesso sulle valute vedete che abbiamo cinque valute e giuseppe ricordami se questa versione tu l'avevi già vista o meno così so se entrare nel dettaglio o meno di questo di questa indicazione è passato un po' di tempo credo che forse l'avevamo vista quella con cinque valute avevamo fatto anche un webinar però magari se però questa tabella questa tabella non l'avevi vista credo di no ok quindi in più rispetto alla classica indicazione di sell in questo caso c'è siamo in zona sell ci l'incrocio andiamo a fare sell fare sell cosa vuol dire significa andare a vendere le prime valute e comprare le seconde nella zona buy al contrario chiaramente l'operatività va fatta a specchio quindi faccio la mia operatività il sell l'indicatore scende chiudo il sell a profitto apro il buy e viceversa da qui aprirò il buy quando andrà sopra aprirò il sell quindi chiuderò il buy a profitto e così via faccio uno zoom veloce indietro per farvi vedere che questa non è una curva casuale ma nel nel lungo periodo questo è un h4 quindi vedete che già da gennaio ha un andamento sinusoidale quindi lo spread tocca sempre la parte bassa tocca sempre la parte alta e questa è proprio la caratteristica ci permette di tradare in maniera semplice e come se tradassimo un grafico sempre laterale quindi anche se il nostro diciamo ad esempio quale euro dollaro scende per tutta questa tratta di grafico in tutta questa discesa abbiamo delle indicazioni buy e di indicazioni sell e questo anche a livello di trading è molto semplice basta aspettare la zona alta la zona bassa per fare buy o sell in più abbiamo aggiunto questa tabellina che ci dà due importanti indicazioni che sono la tabellina va divisa in due la vediamo qua ci dà il colore di quello che la valuta quindi ci dice cosa fare buy quindi ovviamente per andare buy deve essere verde per andare a sell deve essere rossa quindi adesso ad esempio abbiamo in tempo reale non siamo proprio in zona però siamo nella zona bassa quindi se questa linea dovesse andare a toccare la linea verde l'indicatore già ci dice che dovremmo comprare euro dollaro comprare gbp comprare od usd comprare usdn e vendere usd cad vediamo anche magari un altro time frame così vediamo se l'indicazione è diversa al daily ok vediamo che in questo caso l'usdn non sarebbe da comprare ma sarebbe da vendere in daily ci postiamo in m15 in m15 abbiamo compra vendi euro dollar compra gbp compra od compra usdn e vendi usd cad quindi in tempo reale l'indicatore ricalcola quelle che sono le movimentazioni delle singole valute e ci dà subito una chiara idea di cosa dobbiamo tradare in quale direzione in più vedete che in questa fase della tabella non ci sono scritte buy o sell perché l'indicatore riesce statisticamente a dire ok tu devi vendere euro dollaro però l'euro dollaro ha già fatto troppa strada per quello che è la sua volatilità quindi sarebbe da vendere ma ormai è tardi e quindi non segnala niente lo stesso per il gbp lo stesso per l'audi usdn e così via questa è una seconda indicazione che ci dà l'indicatore per alzare ulteriormente la profittabilità vedete qui ci sono due indicazioni su cinque torniamo all'h4 che ci sono quattro indicazioni su cinque questo ci aiuta statisticamente perché noi sappiamo che quando abbiamo almeno quattro operazioni su cinque come in questo caso manca solo l'usdn o meglio cinque su cinque la profittabilità dell'indicatore si alzerà ulteriormente quindi in questo caso dovremmo fare solo i tre buy di queste tre valute e un sell dell'usd cad quindi l'indicatore ci dice quando entrare cosa tradare in che direzione e se statisticamente l'operatività ha un senso o meno quindi in questo caso se dovesse confermare l'incrocio verso l'alto e quindi dare il buy questa operazione sarebbe da fare un altro time frame un'altra cosa che non ho detto che ho dato per scontato visto che comunque ho visto che ci sono già molti clienti quindi persone che già utilizzano anche il nostro indicatore è che la versione nuova rispetto a quella vecchia può essere utilizzata su tutti i time frame quindi dal daily per un'operatività molto più lunga che da sicuramente profitti più lunghi ma anche drawdown più alti perché i movimenti delle varie valute saranno disposti magari in un mese due o tre di trading quindi un'operatività molto molto più tranquilla ma con profittabilità ancora più alte e drawdown ovviamente di pari passo h4 stesso modo di lavorare h1 e in questa versione riusciamo a scendere fino all m15 quindi per chi vuole tradare intraday tradando un m15 riesce trovare tre quattro condizioni buone durante la giornata quindi non è scalping ma è un'operatività che per chi ha tempo di seguire può essere un po più interessante e un po più veloce per chi non ha tempo di seguire una partita h1 h4 da quei due o tre segnali a settimana e quindi si può guardare tranquillamente una volta alla sera dedicando proprio cinque minuti perché guarda dove il grafico siamo alti ok vendo siamo qui a metà no aspetto fino a che non arriva a profitto e quindi a profitto finché non arriva il segnale quando arriva il segnale ho da inserire il mio basket e sono e sono a posto vedo che ci sono delle domande le leggo direttamente io o no allora perché tu non le vedi tutte dove perché c'è neanche una domanda da facebook allora andrea chiedeva se l'indicatore è disponibile solo per i clienti che mi rispondo io dicendo che appunto fabio di pp trend academy è uno dei nostri partner e ovviamente questo web che stiamo facendo è sponsorizzato dati quindi questo indicatore è disponibile solo per i clienti real di tp mille io domani mi dirò un'email a tutti appunto gli iscritti del webinar con diciamo indicazioni per poter avere questo indicatore quindi dovete aspettare l'email che mi vero domani poi sul lato tecnico antonio ti chiede che dove lo spread quindi in realtà noi poi l'abbiamo intitolato in maniera diversa il webinar non lavorando sulle correlazioni quindi vedendo quelle cinque valute che tu hai messo cinque cambi sono molto correlati tra loro quindi è più una sorta di correlazione giusto esatto qui c'è uno studio dietro un po' particolare lo spread non so se la domanda è riferita dove lo spread nel senso dove l'indicatore o o altro lo secondo lui forse non è tipicamente lo spread che hai fatto vedere tra le prime due valute che l'indicatore ha iniziato ok se era riferito in quel modo questo basket è una soluzione che abbiamo trovato per sbilanciarci come si vede rispetto all'usd poco importa perché in realtà l'indicatore ci dice la direzione quindi se ci sarà da vendere uno all'altra ce lo dirà lui quindi in realtà elabora lui quello che è l'operatività migliore da fare però questa versione di spread diciamo la versione 3.0 cosa che tu sicuramente come visto perché da qualche paese che la facciamo che ci crea un piccolo sbilanciamento verso l'usd è come se noi andassimo a studiare per darmi un'idea generale il dollar index quindi vedere cosa fa il dollaro e andiamo sbilanciarci in maniera leggera verso a favore o contro il dollaro questo ci permette di alzare ulteriormente quello che è diciamo la profittabilità dell'indicatore e quindi ci permette di andare a fare dei guadagni un po' più alti come abbiamo visto nel mese di agosto e mantenere comunque il drawdown controllato quindi usiamo un incrocio tra il vecchio spread che generalmente si conosce non è un equilibrio perfetto ma è un leggermente sbilanciato verso quello che statisticamente l'indicatore sente favorevole e quindi ci permette di andare alzare ulteriormente l'asticella dei profitti questo si deduce anche dal fatto che il vecchio spread a due valute non scendeva sotto l'M30 era consigliato l'H1 l'H4 perché i costi di gestione erano non dico alti ma comunque aprire due operazioni cinque operazioni era troppo equilibrato quindi c'era poco discostamento tra uno e l'altro per creare profitto in realtà questa versione crea quel discostamento superiore che ci permette di tradare anche un M15 perché comunque riusciamo a entrare velocemente al mercato prendere profitto più velocemente anche a volte in pochi minuti e questo lo potete vedere anche in tempo reale dal nostro canale telegram perché spesso postiamo l'operatività in tempo reale quindi vedete che in quanti minuti effettivamente poi c'è il profitto dello spread e riusciamo ad avere un prodotto ancora più performante rispetto alla versione vecchia quindi questo basket particolare è stato studiato con una configurazione particolare abbiamo fatto un'analisi e si intravede nella in una delle slide che posso farvi rivedere che è questa qui eccola qua vedete che le coppie sono esattamente le stesse quindi euro dollar gbp audi usd usd cad questo è uno studio di un equity che abbiamo fatto ed è una simulazione di un portafoglio quindi io apro un lotto di euro un lotto di gbp un lotto di audi un lotto di usd usd cad vedete che la simulazione del portafoglio è laterale questo è fondamentale per la riuscita del nostro spread se noi avessimo aperto nel maggio 2020 un lotto di ogni valuta aperto a questa altezza oggi saremo alla stessa altezza e questo non è un indicatore ma proprio l'equity quindi se avessimo fatto questa operazione un anno fa oggi ci troveremmo allo stesso valore di un anno fa chiaramente gli svuop e quant'altro però questa è la simulazione dell'equity di questa coppia quindi o meglio di questo basket di questa cinquina utilizzare questa cinquina che crea questo portafoglio ci amplifica l'effetto laterale che noi andiamo a cercare quindi quando è basso compriamo quando è alto vendiamo e così via insieme di questo basket con il nostro indicatore di spread ha generato questa versione nuova 2.0 chiamiamola così che ci permette di amplificare ulteriormente i profitti quindi è uno spread leggermente sbilanciato verso il dollaro a favore o contro ce lo dirà poi l'indicatore vedo che ci sono altre domande ok sì perfetto poi infatti valter ti chiedeva se si può operare su due o tre cross tutti i buy anche sì assolutamente in questo caso vedi che l'esempio è euro dollaro buy gbp buy audi usd buy l'indicatore è un indicatore classico quindi nei parametri posso andare a mettere le valute che voglio mettiamo ad esempio nz di usd giusto per dare un esempio possiamo metterlo anche audi yen metto valute a caso imposti a caso vedete com'è la curva se io premo ok vedete che la curva è cambiata quindi è andato a ricalcolare le valute è andato a dare le indicazioni che lui ritiene opportuno ridisegnando lo spread in tempo reale quindi possiamo andare a trovare due tre quattro cinque valute fino a sei l'indicatore porta fino a sei valute e come dicevo prima possiamo mettere poi anche indici azioni o quant'altro ok perfetto quindi anche in questo indicatore si può inserire già si possono inserire gli indici no sì sì l'unica cortezza come dicevo prima è che l'indice ha un peso diverso rispetto alle valute in realtà anche le valute hanno un peso però per dare un paragone l'euro dollaro ha un peso di 1 gbp ha un peso di 1 e 0 8 quindi finché non andiamo a tradare un lotto tradando 0 0 1 non posso tradare 0 0 18 e quindi in realtà sarebbe 0 0 1 0 0 8 quindi finché non arriviamo almeno a 0 1 di lotti e traderemo è uguale 0 1 10 finché non abbiamo un lottaggio abbastanza alto diciamo un lotto la differenza è talmente minima tra le valute che non va a influenzare l'operatività sugli indici cambia parecchio quindi è fondamentale avere poi l'esposizione mercato giusta per poter essere bilanciati essere protetti da eventuali drawdown in maniera corretta ok chiaro domande finite quindi se vuoi domande finite allora l'ultima cosa che posso visto che siamo già a 30 quindi siamo un po' gli sgoccioli vorrei ancora lasciare un po' di spazio per qualche ulteriore domanda se ci sarà e una domanda che speravo mi facessero è va bene ma come faccio di aprire il buy di euro dollaro buy di gbp buy di audio sd questo no è un sell di usd card ci metto un'ora apreli tutti poi magari sono qui ecco una cosa che non ho detto la dico adesso così vi faccio sia la domanda per questo la faccio io a voi a questo giro e vi faccio anche vedere un altro modo di operare ad esempio qui io devo aprire un buy però vedete che poi l'indicatore non arriva a profitto subito perché la zona sell sarebbe questa cosa succede scende mettiamo che qui non faccio niente attendo attendo qui ritorna alla zona buy mediamente a livello di operatività un'altra cosa importante che si può fare a livello di gestione dello spread che è un'altra cosa che facciamo e andare a mediare mediare come riaprendo lo stesso basket quindi qui farei un buy con questa configurazione qui farei un altro buy con la stessa configurazione e potenzialmente potrei fare un altro buy quindi mi tengo diciamo a livello di gestione soldi la possibilità di aprire tre basket per andare a mediare il prezzo di modo che poi quando arriverò a target e dovrei aprire poi un sell andrò a chiudere il mio buy a profitto chiudere il mio buy a profitto e aprirò il sell però aprire buy non significa aprire buy di una valuta ma aprire buy con questa configurazione quindi aprire cinque ordini qua aprire cinque ordini qua e qua chiudere dieci ordini diventa un po complesso e se lo uso solo con un basket è ancora fattibile se dovessi usare altri tipi di basket avrei poi una cinquantina di ordini da gestire che diventa pesante e importante da gestire e non capirei neanche quali sono i buy e quali sono i sell cosa abbiamo fatto allora abbiamo creato un pannello che ci permette di andare operare nel pannello per esempio potete vedere degli indici giusto per dare anche degli esempi per far vedere che il pannello è utilizzabile tranquillamente anche sugli indici però funzionalità è la stessa il pannello ci permette di andare a gestire le operazioni in maniera molto molto snella e ha un sacco di funzionalità che sono molto molto importanti la prima sono vabbè nei parametri metto quello che voglio tradare rispetto all'indicatore quindi devo crearmi un'uguaglianza tra indicatore e pannello con i tasti più o meno posso andare a cambiare i lotti velocemente vedete che posso andare a calibrare uno per uno il mio lottaggio premendo sul tasto della valuta in questo caso posso andare ad esempio adesso mi dice dax sell io sono in buy premo e cambio da buy a sell in maniera molto veloce quindi per fare questo basket dovrò semplicemente andare a ricopiare premendo buy sell buy sell e posso andare a cambiare o invertire la mia operatività in maniera molto molto veloce e premendo il tasto open spread adesso qui non lo faccio perché sono sul conto live di tick me quindi non voglio aprire uno spread anche se ci sarebbe quasi quasi la condizione buona per farlo perché siamo in zona sell devo aspettare solo che l'incrocio giri verso il basso prossimo già in buona zona sale quindi sarebbe comunque un buono spread da fare premendo il tasto open spread il mio manager l'abbiamo chiamato trade manager va aprire il sell di dax con un lotto e zero due un sell del 40 del di tre lotte zero uno e così via quindi mantenendo impostazioni bio sell con lottaggio che ho fatto aprirà le cinque operazioni contemporaneamente in più cosa mi fa il nostro nostro manager mi dice nel basket uno il profitto che in temporale si genera o la perdita quindi appena apro il mio basket premendo il tasto open spread mi darà in tempo reale il mio valore mettiamo più dieci premendo un'altra volta il tasto open spread andrò a mediare la mia operazione aprirà il basket due con la mia seconda operazione mio secondo gruppo di operazioni perché sono cinque operazioni in uno quindi vengono riassunte basket due e così via fino al basket dieci abbiamo una sezione che total profit che mi dà il totale del profitto quindi se io sono più dieci qua sono meno dieci e qui sono più cinque ad esempio lui mi riassumerà tutti i singoli valori e qui avrò più cinque di totale quindi ad esempio oggi è venerdì vedo più cinque o cinque basket aperti voglio stare a vedere quali sono perché sono so che ho un profitto di cinque euro voglio liberarmi premo il tasto close all e lui chiude tutti i basket in un colpo solo quindi senza starli a guardare ho 15 operazioni aperte 30 operazioni aperte lui le chiude tutte sapendo che ho un profitto e ho il tasto close basket per andare a chiudere il singolo basket quindi come dicevo prima qui abbiamo più dieci e abbiamo meno dieci qui ho un più cinque voglio andare a portare a casa qualcosa posso premere il tasto ad esempio close basket 3 porto a casa il cinque rimango eggiato tra più dieci meno dieci so che è un edge perfetto e tic mi permette di farlo quindi posso usare questo tipo di operatività è un edge perfetto a mercato non ho problemi né di esposizione di mercato né di particolari notizie o altre problematiche come se io facessi buy di dax e sell di dax con gli stessi lottaggi sono perfettamente in edge quindi perfettamente equilibrato l'equilibrio viene viene fatto su cinque valute non su una però il principio è lo stesso quindi sarà completamente flat una funzionalità nuova che abbiamo aggiunto che non si vede qui perché questa versione vecchia è il tasto mezzo quindi qua c'è un tasto mezzo che permette di smezzare l'operazione quindi io sono un lotto di dax tre lotti di questo quattro lotti di questo lui smezza e divide tutti i lotti per due quindi farà 0 51 di dax metà li porta a casa e metà li lascia correre tre lotti lo smezzerà a 1 50 quattro lotti lo smezzerà due e così via quindi porta a casa metà profitto e metà li tengo per lasciarli correre lasciarli correre perché perché nelle proprietà che abbiamo dell'expert abbiamo due funzioni interessanti e fondamentali e le vediamo qui abbiamo la possibilità di inserire un profit all che corrisponde al mio close all profit dove io ho un totalone quando tutti i basket che siano 1 2 10 o 50 arrivano a profitto globale di 500 euro ma questo è impostabile come parametro quindi posso sceglierlo in automatico il mio expert chiuderà tutte le operazioni quindi anche se io sono a dormire lui guarda se arrivo al totale che ho impostato chiude le operazioni posso impostare i singoli profitti quindi basket 1 basket 2 20 euro basket 3 100 euro quando il basket 1 arriverà 20 euro lo chiuderà quando basket 3 arriva a 100 euro lo chiuderà e così via quindi fa una gestione anche qua automatica e ultima funzione ma non ultima di importanza è il break even quindi quello che è impostabile a livello di profitto ad esempio 100 euro adesso magari è un po tardi qui la voglio non rilascio spazio per qualche domanda ma giusto per dare due linee generali il break even si attiva un certo livello e porta a casa un certo profitto questo cosa vuol dire che se io imposto 100 euro sono a zero ho il mio target a 100 euro e il mio profitto sale quando arrivo a un certo livello il break even si attiva mettiamo che arrivo a 75 euro cosa succede di notte potrebbe scendere andare a meno 70 io mi sveglio la mattina vado a dormire con un profitto di 75 mi sveglio con una perdita di 70 il break even evita questa questa problematica e quando arriva a 75 attiva il break even monitora in automatico il basket e il gruppo di basket se il profitto sale arriva a 100 del mio target chiuderà profitto e porterà cosa 100 euro se mi scende e mi va contro ho un livello minimo al quale chiamiamolo un trailing stop o uno stop profit quindi ad esempio impostato 50 euro se scende so che meno di 50 euro non voglio guadagnare e quindi quando scenderà o mi tocca il profitto di 100 o scende e a 50 euro chiuderà evitandomi di prendermi una perdita importante quindi comunque un ordine che approfitto è da stupido e lasciarla andare poi in perdita quindi mi farà la gestione completamente automatizzata di questo break even questa è una funzionalità molto molto interessante perché spesso si prova a far correre i profitti e quando va male ci ci gira il mercato contro e si prendono delle perdite in questo caso evitiamo di prendere abbiamo un profitto è da stupido andare a prendere una perdita questo è più o meno in maniera molto veloce quello che fa il pannello ma che ci aiuta in maniera molto molto pratica a snellire l'operatività e anche vedere poi quelli che sono i profitti perché in tempo reale anche se ho diversi basket aperti vedo subito quale approfitto quale imperdita e così via sì il pannellino me lo ricordavo molto bello molto interessante poi soprattutto sugli indici adesso con tic mil ci sono i micro lotti praticamente su tutti gli indici quindi si può fare una gestione rischio molto culata e poi tra l'altro quando ci saranno le azioni anche sulla mt5 ci riprendiamo l'impegno fabio di rifarne uno ad hoc per poter poi parlare di quei determinati strumenti riguardo le domande eh allora eh valter ti chiede eh mi sarei spiegato tante cose io sono sempre webinar di presentazione poi ovviamente eh fabio vi ha dato i suoi contatti all'inizio del webinar e domani con l'email vi darò appunto la sua email per poter poi contattare direttamente lui valter ti chiede se esiste un corso per imparare questa questa tecnica eh sì diciamo che il corso in realtà da quando facciamo webinar io e te quindi ormai da due anni a questa parte eh registrando tutti i webinar abbiamo fatto eh i webinar di presentazione che facciamo con te ma mano a mano che sviluppiamo anche le novità o gli aggiornamenti che facciamo teniamo tutto online sul nostro canale youtube e quindi eh solo con la quantità di video che ci sono sul sito che posso se vuoi anche far vedere eh c'è detto che fate quello del venerdì giusto che è sicuramente in tempo reale quindi è la migliore occasione per poter mettere poi in pratica quello che hai spiegato oggi esatto si parlo puoi far vedere di venerdì nuovamente il sito e nel frattempo ti faccio la l'altra domanda di Salvatore che ti chiede se la gestione del brecchino la fa tipo trailing stop esatto sì tipo trailing stop ehm adesso lo rispondo magari in maniera un po' meno veloce comunque il sito è questo premendo il tasto sul canale youtube vedete che abbiamo tutti i nostri video quindi abbiamo un po' di eh video e nei vari video facciamo vedere anche eh il friday open webinar quello che facciamo quindi li registriamo e li riproponiamo quindi rimane eh tutto registrato ma anche ad esempio quella tecnica che potete vedere prima di mediare o non mediare quindi faccio vedere anche eh qualche chicca di come si opera e come non si opera o quale sarebbe più conveniente in certi momenti e non in altri e eh non ultimo il canale telegram che è fondamentale perché eh come dicevo ci si scambia opinioni idee quindi mh l'operatività a volte eh viene migliorata proprio dagli esempi o dal dalle problematiche che escono no quindi poi uno magari sbaglia in operazione però ehm diciamo che in generale c'è un manuale di massima ma l'esperienza eh fa sempre da padrone quindi imparare usare fare prove è sempre la cosa migliore poter condividere l'esperienza con altri utenti quindi con chi ha già più esperienza aiuta tantissimo anche per chi parte da zero eh per essere subito eh in grado di utilizzare a pieno le capacità dell'indicatore poi piano piano come tutte le cose si impara a camminare una volta che uno già cammina eh si può poi iniziare a correre quindi ci bisogna ovviamente dedicarci del tempo però mh abbiamo tentato di fare un prodotto molto molto semplice alla portata già mh anche dei meno esperti e quindi le indicazioni sono eh abbastanza semplici e intuitive quindi speriamo di aver fatto un buon lavoro insomma rispondendo. Sicuramente molto interessante eh non al caso ne abbiamo fatti diversi di magari anche non solo quello sul sul canale di di Fabio guardatevi poi quello che abbiamo fatto insieme su su tip mille eh non ci sono altre domande Fabio abbiamo un altro minutino se volete spiegare qualcos'altro oppure possiamo chiudere qui? Ma eh sì magari rispondo un attimo meglio al discorso del breakeven anche se poi perché iniziare un un argomento in un minuto mi sembra ehm poco poco gestibile però sì in realtà il breakeven è un tipo un trailing stop però viene fatto in automatico dal sistema e quindi viene fatto non sulla singola operazione quindi non è che faccio un trailing stop sul movimento dell'euro dollaro o sul movimento del GBP o sul movimento dell'audi è un trailing stop fatto a monetario quindi a livello di euro per me l'euro può andare su di mille il GBP può scendere di mille l'importante che il mio differenziale sia zero euro un euro due euro e quindi vado a gestire l'operazione come se fosse eh un blocco unico come se fosse una valuta unica come se questa fosse non un indicatore di spread ma una valuta virtuale composta da cinque valute io apro un'operazione delle cinque valute chiudo l'operazione delle cinque valute e ovviamente avendo dei movimenti diversi delle volatilità diverse l'unico modo per chiudere in profitto in maniera corretta al training stop e non separare il basket ma gestire tutto come un'operazione unica e quindi gestire il training stop a livello monetario quindi ehm a livello di soldi quindi è un training stop a livello monetario ok eh altre due domande eh lasciamo comunque il tempo per le domande tanto comunque cinque minuti in più e meno non cambia assolutamente nulla allora fedele ti chiede ehm come calcola i pesi degli indici o valute in modo automatico? Sì esattamente vediamo anche qui fa tutto il pannellino ok esatto vedete adesso per esempio come dicevo prima uno e uno mettendo alcune parametro adesso non vorrei beccarne una giusta perché non me le ricordo a memoria però cambiando il sottostante lui va a ricalcolarsi in questo caso sono valute quindi prende sempre tutto uno a uno mettiamo magari l'oro da una cosa un po' più x a u usd anche se ha poco senso tradare l'oro contro l'audio usd infatti non me lo dà però ehm perché non è questa versione quella fatta per il forex e quindi non per indici o azioni o altro però in nella versione diciamo corretta per l'indici darà un rapporto corretto di ehm proprio lottaggio tra uno e l'altro quindi tra una valuta e l'altra viene ricalcolata e viene eh chiaramente evidenziato in questo caso sarà uno a cinque uno a dieci quello che insomma ok poi Antonio ti chiede ehm no se avevi finito su questo punto o vorrei aggiungere altro? Sì sì no l'unica cosa che viene espressa in lotti per fare cifra tonda eh non è che diciamo compra un lotto eh uno uno significa che posso fare anche zero zero uno e zero zero uno quindi la proporzione poi deve essere calcolata però diciamo che la proporzione è rotondata alla cifra al decimale più corretto rispetto al lotto intero ecco. Ok eh Antonio ti chiede un esempio di prima perché non è chiaro perché mende dollari in tutti per? Perché questa versione che abbiamo fatto è sbilanciata sul dollaro quindi noi andiamo a forzare lo sbilanciamento del dollaro sarà compito dell'indicatore andare a capire se il dollaro è forte o debole per poterci eh sbilanciare chiamiamolo così su un trend del dollaro quindi sul dollar index e eh andarci a fare tra andarci a far tradare il trend del dollar index quindi eh riesce a capire quando c'è un trend e se c'è un trend andiamo a spingere di più verso la direzione del trend banalmente. Questa cosa si può fare. Poi Fabio ti chiede se l'indicatore lavora da due fino a cinque sottostanti detto fino a sei giusto? Sì. Posso lavorare su due valute se per esempio? Sì 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 eh anche quella è automatico l'indicatore sente se la valuta c'è o meno o se l'indice c'è o meno si andrà a recalcolare per due minimo di due ovviamente massimo di sei quindi basta che metto nei parametri due tre quattro cinque o sei e il l'indicatore si ricalcolerà il tutto in maniera eh automatica. Certo per fargli esempio all'inizio due è molto più semplice perché andare a confrontare cinque grafici contemporaneamente a mano è anche molto molto difficile però per chi vuol capire la logica con due è molto molto più semplice. Ma questo indicatore è lo stesso che calcola poi gli indici no? Sì sì sì. Ok. Quindi qui potrei mettere cinque indici? Sì. In quel caso che cosa mi calcola? Mi calcola la forza degli indici no? Esatto. Chiaramente la differenza sta nel fatto che il calcolo dell'esposizione mercato di un indice è diverso dalla valuta quindi il calcolo essendo diverso dobbiamo adattare quello che è l'indice alla valuta in particolare nella versione per gli indici eh non l'ho messa però abbiamo una eh uno true false dove l'utente quando inserisce dice inserisco valute o inserisco indici di modo che lui vada adattare il calcolo corretto per l'indice o per le valute cambia il calcolo sostanzialmente però è tutto automatico. Va bene ok questo poi magari sugli indici ci ritorneremo con un secondo webinar ok tutto chiaro eh Fabio grazie per la spiegazione io vedo che non ci sono più domande quindi direi che abbiamo un po' eh spiegato un po' tutti i punti quindi poi eh la registrazione ehm non sa cosa dici io non avrei una mentina vabbè poi eh bene vuol dire che è l'argomento interessante sì assolutamente eh domani vi invio tutti i riferimenti di Fabio in modo tale che potete poi eh contattare direttamente lui e se c'è qualche domanda che mi sono perso tra le tante potete poi farlo direttamente a lui. Grazie Fabio come sempre sempre tutto molto interessante ehm io vi do appuntamento con i prossimi webinar di TIC1000 uno ce ne sarà l'undici dove parleremo di eh volumi eh invece con Fabio io mi riprometto di farne un altro dove parleremo di indici di azioni quando avremo le azioni con TIC1000 sulla MT5. Grazie Fabio. Grazie a te Giuseppe, grazie a TIC1000, grazie a tutti i partecipanti e grazie per averci dedicato del tempo eh alla prossima speriamo presto. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao, buonasera.